Devo dire che la maggiore preoccupazione dell'amministrazione comunale di Casaviccia, ma ho potuto captare che anche alla manifestazione che fu fatta a Barano di tutti i cittadini dell'Isola Disca è quello di realmente trovare una soluzione idonea per questi nostri concittadini che hanno delle difficoltà di salute. Sicuramente noi ci siamo fatti promotori di una serie di iniziative a livello amministrativo e alla fine avevamo ragione che quella struttura non era idonea per questo tipo di servizio che andava a essere individuato nell'albergo Villa Stefania, ma c'erano altre soluzioni da poter praticare sul territorio. Ci fa piacere che abbiamo subito attivato una interlocuzione con il nuovo General Manager dell'AS Napoli 2 Nord, la dottoressa Iovino, avremo a brevissimo un incontro con la dottoressa per trovare una soluzione alternativa, perché come ho sempre detto nelle varie interviste, la vita umana ha un prezzo incommesurabile, la salute è altrettanto, quindi l'obiettivo è quello di trovare una soluzione che sia dignitosa, che sia nella sicurezza, che sia quando più migliorativa, efficiente per questi nostri concittadini. Io approfitto dell'occasione per ringraziare tutti i comitati, tutte le amministrazioni, la diocese, il vescovo, tutti i movimenti che si sono adoperati affinché questa battaglia, questo braccio di ferro, doveroso secondo me con l'AS Napoli 2 Nord perché aveva fatto un'iniziativa secondo me un po' avventurosa, sia stata da un punto di vista amministrativa, sia stata vinta da questa parte della cittadinanza. Adesso comunque non bisogna mollare la presa, bisogna trovare una soluzione dignitosa e quindi arrivare a trovare una soluzione definitiva a quanto prima. Quindi a brevissimo avremo questo incontro, apriremo un tavolo di dialogo con l'ASL per trovare una soluzione dignitosa per i nostri concetti.